Orviato.tv presenta Umbria Jazz Winter 16 in collaborazione con Cittasloin Festival dal 14 al 21 marzo, Coar Village, l'Officina del Gusto, Jazz tutto l'anno al San Giovenale. Ci sono quelli che il jazz lo ascoltano nei teatri e nelle sale da concerto, chi invece preferisce gustarselo mentre allieta anche il palato. A Orvieto quella di cenare accompagnati dal piacevole ascolto di jazzisti internazionali è ormai una tradizione, alla quale quest'anno si sono affiancate diverse novità. Al Palazzo del Gusto i concerti dei chitarristi Chip Wilson e John Rankin sono stati seguiti da degustazioni di prodotti tipici, all'interno della rassegna Eccellenza Chiama Eccellenza. Ogni sera a mezzanotte i ristoranti al San Giovenale e al San Francesco hanno ospitato il Round Midnight, in cui gli artisti del calibro di Renato Sellani e Gianni Basso hanno accompagnato musicalmente stuzzicherie di ogni tipo. Senza dimenticare i Jazz Lunch e i Dinner Jazz, che sempre al San Francesco hanno portato sul palco da Vanes Thomas and Soul Spinner agli italianissimi Rimband Band. Così tra una specialità orvietana e un bicchiere di vino la manifestazione sta arrivando al termine, continuando ad aglietare palato e udito. Grazie a tutti!